La parola dovrebbe essere trasversale perché l'obiettivo è quello della transizione energetica. Gli operatori sono presenti, chi opererà in questo contesto si formerà con SAFE che ha raggiunto non a caso i 20 anni in questo settore. Ma come realizzare questi risultati e questi obiettivi? A nostro avviso l'esperienza dimostra che l'unico modo, il fattore di successo per approcciare questo tipo di sfide è un approccio trasversale. Trasversale e la storia di SAFE è un buon esempio perché bisogna mettere insieme competenze diverse, bisogna saper lavorare su più piani e la stessa governance che è stata immaginata per realizzare la transizione energetica è una governance multilivello, non a caso, perché coinvolge le organizzazioni internazionali, coinvolge le organizzazioni sovranazionali come l'Unione Europea, coinvolge gli stati, coinvolge le regioni, i comuni e via via scendere. Perché è un'organizzazione, perché occorre un approccio trasversale? Perché si tratta di obiettivi diversi che si realizzano in contemporanea su luoghi diversi, con competenze diverse, con regole diverse. E quindi occorre, per avere quella visione positiva che è stata illustrata ed evitare i rischi che il Presidente dell'Enea ha puntualmente ricordato, occorre avere un approccio trasversale dal punto di vista delle competenze. E qui SAFE ancora una volta non a caso mette insieme competenze diverse per formare operatori della transizione energetica. E lo fa in modo intelligente, proprio con un approccio trasversale. Trasversale perché è il fattore di successo, secondo le principali scuole di formazione, secondo gli scienziati dei nostri tempi, ritengono che il fattore di successo per confrontarsi con la complessità della nostra realtà, anche a maggior ragione quando si confronta con scenari complessi e di lungo termine, come quello della transizione energetica, è solo quello di avere un approccio trasversale. Forse è proprio l'approccio trasversale che è mancato nel momento nel quale si è cercato di recuperare il ritardo nell'approccio al settore delle fonti rinnovabili e che oggi porta questo po' di zavorra dal punto di vista economico-finanziario da gestire in capo alle autorità competenti e complessivamente al settore economico e al Paese. Forse è proprio l'approccio trasversale quello che occorre avere per orientare le scelte politiche, regolatorie, economiche, finanziarie e di formazione per cogliere solo le opportunità che la transizione energetica ci dà. L'approccio trasversale è anche quello che noi dal punto di vista professionale cerchiamo di seguire. Non a caso all'interno del nostro studio abbiamo deciso di essere presenti in otto sedi diverse, mettendo competenze diverse, per la prima volta affiancando ai giuristi che tradizionalmente capiscono abbastanza poco di realtà complesse, persone che hanno una competenza non solo di tipo fiscale ma anche contabile, anche tecnica ed economica. Perché? Perché abbiamo ritenuto che all'energia e alle risorse energetiche occorresse offrire un approccio trasversale. Trasversale nel seguire le esigenze dei clienti, trasversale nel seguire il mix di competenze che le regole del gioco fissano. Però attenzione, trasversale non significa anche facili a cambiare idea, incerti, perché questo va evitato. Il settore delle risorse energetiche e la possibilità stessa di realizzare la transizione energetica ha sì bisogno di un approccio trasversale ma molto coerente, molto certo nei tempi e nei modi di realizzazione. Altrimenti il rischio che tutti corriamo è che si reiterino gli errori che hanno portato all'eccesso di liturgiosità che ha caratterizzato il settore delle rinnovabili fino adesso, all'eccesso di conflittualità tra operatori economici, nazionali e internazionali e autorità di controllo che ben conosciamo tutti quanti, perché tutto questo non è trasversale, è semplicemente inutile e crea solamente confusione. Bisogna imparare a far sì che obiettivi complessi, la transizione energetica sicuramente lo è, siano realizzati in modo intelligente. L'intelligenza dei nostri tempi è quella di avere un mix di competenze che consenta di guardare in modo trasversale ad un problema complesso da realizzare. Grazie a tutti. In bocca al lupo. Grazie a tutti.